allora per montare il bracciolo dobbiamo staccare questa parte qui tirandola viene via vedete che ha dei ganci di plastica e anche quest'altra parte sganciarla perché dei ganci in plastica poi andiamo a svitare la vite che si trova qua sotto e l'altra vite che si trova qua sotto che sono due viti a stella piccoline è uguale qua ne abbiamo altre due dopo troveremo due di questi bulloni uno di qui e uno dall'altro lato che sono alla base di tutto quanto andiamo a svitarli con una chiave inglese una volta tolti due bulloni alati andiamo a tirare sulla vaschetta così in modo da riuscire arrivare a quelle due viti e toglierle stando attenti a non inclinare troppo svitate le due viti io adesso ho inclinato troppo lo spaccate e otterrete questo qui dopodiché possiamo andare a mettere il nostro bracciolo inserirlo praticamente come abbiamo inserito questo e avvitare le sei viti quattro più due bulloni allora una volta agganciato il nostro bracciolo dobbiamo andare a avvitare le due viti che avevamo in precedenza qua e qua le altre due davanti e i bulloni le più difficili saranno quelle due davanti perché come vedete non c'è molto spazio per le mani una volta avvitate tutte le viti andiamo a incastrare la parte finale nel dietro ed ecco qui il nostro bracciolo montato grazie a tutti Grazie a tutti